con l'estate si cresce ma e non è una sola cosa che una cosa che vale soltanto per l'attore vale anche nella vita stessa si cresce perché si fa a scavare dentro e si tira fuori cioè tu vai a scavare dentro di te e tiri fuori le emozioni tiri fuori quello che c'è dentro e in questo cresci migliori cambi ti modifici ora questo spazio di questo tipo è l'unico in tutta Italia io ne sono sicuro non voglio allargarmi sull'Europa sul mondo è perché non lo so però nell'ambito dell'Italia sono sicuro che è l'unico posto quindi perché io dovrei rinunciare all'unico posto dove io posso riuscire tranquillamente e riesco tranquillamente a entrare più dentro e tirare fuori secondo me è la strada migliore per ottenere quello che vogliamo ah che ti devo dire che ti devo dire che ti devo dire no va bene così ciao grazie a tutti